Buondì o girella come vi farà a voi o non mangiate tanto infatti guardate che sono venuto male meno male mi sono rifatto nel creche che ho imparato a far da mangiare e a cucinare un po' di domina buona e allora quest'oggi proporrò una ricetta semplice una ricetta base nel senso che è una salsa che potremmo usare per tante soluzioni e vi proporrò questa ricetta la salsa rosa salsa rosa fredda naturalmente perché ci sono anche un'altra variante che poi in un futuro vi farò anche vedere che è calda da mettere sul pesce lesso che è una spettacolo questa salsina che proporrono oggi potete usarla per farcire tanzini panini ma è fatto anche i cocktail di gamberi o altre pietanze di mare come il salmone con un po' di salsa rosa è veramente ottima o un'insalatina mista di lucolina con un pochino di questa salsa mischiata insieme è veramente ottima molte molte soluzioni e andiamo a vedere subito allora gli ingredienti per fare questa salsa rosa sono molto semplici cioè il Worcester Soussous e questo Worcester Souss è la farna Worcester che ci facevano questa via non sapevano dove erano poi c'è un po' di tabasco un po' di cognac brandy quello che vi farà a voi se siete italiani ci mettete il brandy se siete francesi mettete il cognac così siamo patriottici europei poi c'è del ketchup e della maionese naturalmente questa è una maionese che fa a bocca che se volete andare a vedere come si fa basta andare a vedere sulle playlist delle ricette basi che la trovate di sicuro e poi me lo dite se è meglio della Harvey maionese e fu festa nel paese e non solo lui anche il sabato nel villaggio e comunque gli ingredienti sono questi molto semplici ricetta velocissima andiamo subito a prepararla allora le corrette proporzioni che fanno una delicatess di salsa rosa dovrebbero essere circa tre quarti di maionese e un quarto di ketchup va bene allora andiamo a versare ketchup nella maionese ketchup il ketchup è il ketchup e mi diceva la mia nonna ma come c'è il ketchup non produttivo la mia nonna diceva i kieway invece di kiwi sì i kieway è anche meglio vedete ti metti addosso un piene meno il bambino poi a voi un attimino vedete se c'è troppo se siete dentro che non è rosa perché questa vi più che rosa questa vi mi sembra la costa se ne mettete un altro pochino di il ketchup guarda eh una giratina guardate un attimino io faccia occhio anche voi dovete essere un attimo elastici andiamo aggiungere qualche goccia di cognac se poi non vi ci piace e lo dovete da bimbi e non c'è un etete il cognac qualche goccia di worcester sauce e qualche goccia di tabasco per renderlo un po più saporito date una bella girata e abbiamo creato la nostra salsa rosa come ho detto per fare mille creazioni metteremo dentro un contenitore la serviremo con un cucchiaino con degli stuzzichini anche nel pane tostato o ve l'ho detto dentro tramezzini in altre cose molto buoni sono con le roschette e zucquate le roschette sono buone o ve l'ho detto anche con un po' di insalatina tagliata a fine fine ducetriolini ci mettete un po' di salsa così fate un piattino molto delicatense secondo me con questa ricettina veramente facile una salsina che si prepara in due minuti basta comprare gli ingredienti giusti e basta famone se a modino e poi il resto viene da sé voglio salutare tutti quanti quelli che mi seguono mettete vi piace se non vi piace mettete vi piace uguale per chi siamo rovinati fate un po' delle cose mando a cattori come me Andrea da parte gli scherzi mando bacioni a tutti quanti alla prossima